Con Mauro Antonioli alla vigilia della trasferta di Vasto, ci chiedono i colleghi della stampa un test quello di domani che dovrà rappresentare una continuità sia del risultato ma soprattutto dovrà portare la squadra a mantenere lo stesso atteggiamento positivo e giusto visto domenica Sì, giustamente è quello che ho chiesto ai ragazzi, dobbiamo assolutamente dare continuità di risultato e di prestazione, non abbiamo fatto niente ancora quindi secondo me è una tappa fondamentale e vasto per vedere di che pasta siamo fatti e ho chiesto ai ragazzi di calarsi bene nella mentalità, una partita difficile in un campo comunque piccolo contro avversari scorbutici che devono fare punti quindi tanta intensità, tanta voglia di correre, tanta voglia di arrivare i primi sul pallone e prestazione convincente Una vastese che arriva da una situazione non particolarmente facile, questo potrebbe essere più un vantaggio o uno svantaggio per noi? Ma non può essere vista in tutte e due le maniere, è chiaro che di solito nei momenti di difficoltà le squadre tirano fuori una reazione di orgoglio e si compattano ulteriormente Noi sicuramente sappiamo che affrontiamo una squadra che comunque non merita la classifica che ha e dovranno fare punti, però a noi ci interessa soprattutto il nostro atteggiamento A me interessa l'atteggiamento della mia squadra che deve essere propositivo, allo stesso tempo pronto alla battaglia perché soprattutto in trasferta si va in campi comunque difficili e tutti quando giocano contro la San Benedettese danno quel qualcosina in più, quindi i ragazzi devono essere preparati a questo, ma sono fiducioso che la squadra possa fare una buona prestazione e ripetere quella di domenica In ultimo ci chiedono la situazione dell'infermeria, soprattutto come sta capitando Angiulli? La situazione dell'infermeria non è migliorata di tanto, abbiamo l'unico dubbio Angiulli che lo valuteremo bene domani, è chiaro che è un giocatore per noi importantissimo e se riuscisse a essere disponibile partirà dall'inizio, però gli altri giocatori infortunati non sono stati recuperati, ma in questo momento veramente come ho detto domenica scorsa non dobbiamo trovare alibi, chi gioca deve essere preparato ad andare in campo, i giovani uguale, quindi dobbiamo andare là e fare la prestazione Grazie mister